Per molti, conta solo una sistemazione. Per lui, conta solo la sua terra. Il destino di molti di loro è andare via. Sta soffrendo per la partenza. In cerca di qualcosa. Comunque non importa, tanto me ne sto andando. Non è semplice lasciare le persone che ami. E certi luoghi. Oggi devo salutare qualcuno di più importante. E chi? Il parco. Perché certi luoghi sono più importanti di alcune persone. Tanto è l'ultima volta che mi vedi. Sì, e dove vai? Su Saturno? Sulla Luna? Su Giove? Sarà difficile svuotare un cuore così pieno di volti. Mi ricordi? Un film di Mattias Chiru. Magari qualcosa succederà. Sali su, ci penso io. La bella povertà. Roberto, fermati un secondo! Ascolta il tuo cuore. Ascoltalo. Senti la sua voce. Perché? Ti aspetta qualcuno al parco? No, non credo ci sia qualcuno. Che vuoi che ci sia? A quanto più? Chi? 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 Grazie a tutti.